che lo se non trovava il tornaconto suo va 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 a noi va va quello lì quello lì si chiama calcolo vostri cà vostri cà basta ditte che si affittava la mogliere per 300 le nuovezze stai stai zitta che donna a forza possono dire vostri cà si vede donna a forza avvisatemi hai capito? 300 le nuovezze e facevano pure vita unita io la mogliere e la mia gran mogliere per ditte quanta corna tena e che ciava che ho a me e che ciava che stai dicendo? e che stai dicendo? io non mi ricordo ma non si ricordo ma non si ricordo ma si affittava la mogliere per 300 le nuovezze che facevano vita unita ma non si ricordo tu sei no no io stavo io stavo parlando del maestro Panarillo e e oi Ferdinato Tato ma io che stavo vicino a me hanno diso tutte cose e io te l'ha gelito state zitta non parlare ma tutti nella capa tosto non si dov'avamo usare le gagne orecchie belle abbiamo questa patina pura polpotella